Salve a tutti ragazzi e ragazze trans e benvenuti su questo nuovissimo video di Call of Duty Modern Warfare 2019 Oggi siamo qui perché volevo provare una nuova arma a Kimbo, ovvero l'X16 Ragazzi per sbloccare la Kimbo ci ho messo, è stato un parto Veramente un parto perché per sbloccarla devi fare 5 partite facendo almeno 3 kg per ognuna di queste Quindi niente, questa è la classe affiancata a un bellissimo car per chi è bravo col cecchino o con il fusce tattico in questione Però vi consiglio per il car, per un'arma che in teoria dovrebbe essere secondaria Di non utilizzare il car se non siete bravi col cecchino, vi consiglio di utilizzare piuttosto un chilo equipaggiato come preferite Vi lascio a questa partita ragazzi, niente, buona visione Grazie 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 Musica Ma vaffanculo, ma che vita di merda E freddy told us you're an organ donor All eyes are on you We can walk you through all of that fantasy Learn what you've gone through We can teach you to love eternity You thought that my best As the bed gets ready We're all still right here So let's get family We're feeling festive Join the party we'll try on not to bite Anger is restless Don't hold it against us We're alright We can walk you through. So that's for you Question Facebook Question Question Grazie a tutti.